Sono Ernesto Parisi, sono di Castellammare di Stabbia, ho 25 anni, sono laureato in economia alla Bocconi e faccio il tirocinio da commercialista in provincia di Napoli. Seguo le attività di Beppe Grillo da tantissimi anni. Vengo da una città, Castellammare, che ha 28 sorgenti di acqua ed è un peccato davvero che sia privata. Ormai ci hanno privatizzato tutto, noi la diamo anche a Capri, alla penisola sorrentina, al nord Africa e siamo costretti a pagare delle tariffe altissime. Quindi la mia battaglia sarà questa, acqua pubblica perché l'acqua è la fonte della vita.